l'obiettivo di massima è piacere a tutti diventare virali come se fosse un premio esatto in realtà è la condanna e non lo sai ma se tu abitui mentalmente degli adolescenti al fatto che l'attrito con il mondo è un'ingiustizia tu abitui mentalmente le persone quando vivranno le vere ingiustizie del mondo a reagire con violenza ci stanno rubando le virgole e quando tu togli una persona la capacità di pensare con le virgole gli togli la capacità di fraseggiare il mondo dico e quindi di vedere la realtà per com'è e non per come ti costringono a vederla senza le virgole demoni zombie state allerta anche oggi sta arrivando il tram sui denti sei su dei cogi sai paolo ho un po questa percezione non so se la condividi che più tecnologicamente avanziamo meno abbiamo dimestichezza col linguaggio cioè come se questi strumenti che aumentano le nostre capacità anche linguistiche ed espressive stessero corrispondendo a una regressione nella nel padroneggiare il linguaggio naturale e volevo chiederti se secondo te c'è una diretta correlazione o se invece è una diretta correlazione proprio perché l'uso di questi strumenti ti impone delle regole di comunicazione molto particolari quindi se vuoi essere efficace se vuoi essere premiato anche dall'uso dei social per esempio devi essere veloce gli audio che ti mandano sui vari canali sulle varie pettaforme non li ascolti se sono oltre i 30 secondi io manco quelli fra l'altro quindi sei costretto dal social che ti premia se riesci a essere veloce 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 la chat che ti premia se riesci a dirla in tre parole e quindi ci stiamo avvruttendo ci stiamo impoverendo dal punto di vista linguistico che è una cosa già di per sé molto grave il problema è che poi all'impoverimento linguistico corrisponde un impoverimento mentale di pensiero certo più considera che i software le applicazioni che usiamo ci portano a per esempio togliere le virgole togliere le parentesi io una delle cose su cui allerto molto i miei lettori è ci stanno rubando le virgole e quando tu togli a una persona la capacità di pensare con le virgole gli togli la capacità di fraseggiare il mondo dico e quindi di vedere la realtà per com'è e non per come ti costringono a vederla senza le virgole si è proprio le parentesi e che usa su adesso dico whatsapp telegram eccetera e che usa le parentesi oggi ma se non hai la capacità di pensare in parentesi non riesci neanche a concepire il mondo con le parentesi certamente che vuol dire rintronarsi in modo veramente terribile anche perché la gente apre un sacco di parentesi senza aprire le parentesi quindi mi vuole un minestrone si non riesci a gestirla questa cosa infatti parli con le persone il comune sentire a meno che tu sia circondato da persone particolari da un gruppo dei pari molto forti la percezione che hai quando parli con l'esterno è che veramente devi proprio ridurre all'osso scarnificare e il problema ripeto al di là del problema linguistico è poi mentale certo poche parole poche pensieri a me sembra che questo diventa un circolo vizioso perché sai il tema che abbiamo appena toccato quello del vieni premiato se fai una comunicazione veloce in realtà a me interessa molto cercare di capire cosa vuol dire venire premiato perché vieni premiato in un modo cioè vieni premiato perché diventi accessibile visibile però poi sul lungo periodo vieni mortificato perché in realtà non hai accesso a quelle persone che possono veramente capirti c'è questo scambio che spesso anche in chi produce cose video sul web spesso non è ben chiaro cioè il linguaggio il modo in cui ti esprimi seleziona gli interlocutori se tu invece appiattisci togli le parentesi le virgole togli tutti gli stilemi togli la riconoscibilità tu non selezioni più quindi diventi indistinto esatto perciò il premio è totalmente effimero il premio è effimero ed è quello su cui si basano poi queste piattaforme che ti danno delle gran botte di dopamina perché tu rispondi ai loro standard ti danno il contentino poi alla fine ti trovi nel mare magnum delle capre che si esprimono a monosillabi e poi vai in crisi vai in stress perché c'è sempre poi la ricerca al cosa faccio per avere di nuovo l'attenzione certo io faccio una scelta molto precisa per esempio che è totalmente antidetica rispetto al premio del social me ne frego ampiamente ai social do il pezzo che so di poter dare ma io per esempio questa cosa che tu dici l'ho fatta da tempo nel senso io scelgo le persone a cui piacere ah certo uso un certo tipo di linguaggio esprimo certi contenuti con certi tempi se non ti piacciono o non ti ingaggiano o non diventi virale semplicemente me ne frego perché non è il tipo di persona a cui voglio piacere esatto quando faccio un reel e mi dicono ma puoi approfondire ma hai spiegato poco ma potresti fare o mi commentano in qualche maniera dico non sei il mio interlocutore non mi interessa piacere a te che non è una cosa da poco di questi tempi perché l'obiettivo di massima è piacere a tutti diventare virali come se fosse un premio esatto in realtà è la condanna e non lo sai esatto ti scavi un piccolo inferno e poi non ti riconosci più hai usato una parola che mi ha suscitato una risata ha detto il contentino ok contentino dentro la parola content content e in questi giorni stiamo discutendo del content ok possiamo dire che in realtà non ci sono creatori di content ma creatori di contentini cioè di contentini quando vuoi diventare virale tu non vuoi dare quello che sai di poter dare ma tu dai il contentino cioè è come quando io prendo Baruch ok e perché fa la cacca nel posto giusto gli do un biscottino siamo diventati produttori di biscottini ipercani ed è veramente triste perché ti rendi conto che sai io ogni tanto questa cosa ci penso viviamo l'epoca con il più alto potenziale di autorealizzazione della storia sì e usiamo questi mezzi per diventare contentini creator sì sì che fa veramente schifo se ci pensi sì sì hanno impoverito proprio il concetto sì quando qualcuno mi definisce content creator perché adesso dico per carità di dio non voglio sentire parlare di quella roba lì ogni tanto pubblico in modo provocatorio anche sui miei vari profili questi content creator che alla fine si riducono a veramente cioè delle cose talmente brutte mentalmente che ti fanno venire voglia di chiudere tutto e spegnere tutto sì sì e si è abbassato il livello e si sta abbassando sempre di più perché appunto il fatto di essere premiati per la viralità ma che cos'è che diventa veramente virale di solito la stupidità è una delle cose che diventa più virale in assoluto questa ricerca verso il basso al chi cade più in basso che è una cosa a cui io non voglio partecipare perché nella gara verso il basso comunque non voglio proprio entrarci e hanno snaturato la parola perché oggi content è tutto la verità è che dovremmo essere un po' più snob su questo concetto e dare un po' più di parametri perché insomma infatti alla fine cos'è che fai sul web tipo io faccio filosofia io dico faccio filosofia sono filosofo che usa il web tu hai visto che magari adesso cioè io parto subito in quarta però se vuoi anche presentarti alle persone che ci stanno ascoltando tu che non sei content creator cosa crei cioè cosa se dovessi presentarti dovessi presentarmi direi che sono un esperto di interazioni umane in particolare di intelligenza linguistica cioè del potere che hanno le parole e quindi svelo alle persone cosa dicono davvero quando parlano e come possono cambiare la loro percezione che significa poi cambiare la vita e la realtà grazie proprio all'uso del linguaggio per quello che inordisco quando vedo questo impoverimento progressivo dell'essico della sintasi le parole disponibili che abbiamo attive stanno diventando sempre di meno cioè c'è gente che si esprime a monosillabi sapendo benissimo che le parole diventano il modo in cui il cervello poi elabora la realtà di fatto è quello che vivi c'è da avere veramente paura ma proprio per il futuro perché la domanda è dove stiamo andando in questa direzione senza fare quello della vecchia scuola perché ho i capelli grigi perché uso i social mi piace pensare di essere abbastanza sgamato anche insomma abbastanza aggiornato con i tempi che corrono però sono inquietato dal mondo che ci aspetta perché più impoverisci le parole e più impoverisci il cervello sta creando una massa di rincoglioniti che poi saranno più facilmente manipolabili eccetera eccetera è sempre cospirazionismo ma non lo è è così è che diventa realtà sì sì è così è così guarda mi hai fatto venire in mente perché prima parlavi della lotta al massacro della corsa a toccare il fondo del barile tu conosci Mr Beast è presente lo youtuber quello super sì sì famoso io adesso ti azzardo un'ipotesi ok e proviamo a seguire questo filone vediamo se ci porta da qualche parte io credo che l'impoverimento linguistico che deriva dal fatto che noi non coltiviamo più la nostra capacità di esprimerci perché in realtà vogliamo corrispondere alle aspettative degli altri cioè nel senso aderiamo a degli schemi a un gergo che preesiste è ciò che porta all'esistenza e all'esplosione di fenomeni che sono puramente quantitativi Mr Beast ok io ogni volta che vedo un suo video ho un po' di angoscia sai perché? perché mi trovo di fronte al perfetto modello di quello che ci circonda ovvero faccio quello che la gente mi chiede faccio quello che la viralità mi chiede e in questo senso non c'è limite mi viene sempre in mente quella frase in Wall Street quando a Gordon Ghecco dicono Gordon ma quando è che basta? quando smetti di prenderti cura della tua espressione non hai più misura in quello che devi raggiungere per la viralità e Mr Beast è l'esempio perfetto perché in realtà facevano anche dei video satirici in cui lui finiva per non so fare un esperimento in cui attirava la luna verso la terra perché tanto basta fare content non c'è limite basta fare content ed è esattamente come dici da un punto di vista anche chimico fra l'altro è molto pericoloso perché questa cosa che poi noi vediamo come viralità e come premio le piattaforme ti dicono esattamente io poi mi rifiuto di farlo nel senso se Instagram mi dice che devo stare nei 90 secondi me ne fotto allegramente avrò meno visualizzazioni potrei essere molto più virale ma semplicemente non mi interessa perché non è da quello che misuro il successo e dal punto di vista chimico poi è una schiavitù diventa una tossicodipendenza perché ogni like ogni visualizzazione ogni persona che raggiunge in più è un po' di dopamina il problema della dopamina è che non basta mai è come il gioco d'azzardo sempre di più sempre di più sempre di più e quei fenomeni di Youtube che poi vengono emulati malamente con tutte anche le le problematiche del caso perché ricordo l'anno scorso i tizi che volevano emulare che hanno ammazzato il bambino cioè non cose perché non hai più il limite e non senti più la dopamina ne vuoi sempre di più e questa cosa attenzione diventa malattia quindi ci sono delle ripercussioni incredibili e oggi giorno la mia percezione è che non ci stiamo rendendo conto di cosa stiamo facendo davvero i danni si vedranno benissimo stanno già vedendo perché ripeto parli con gli esseri umani che incontri per la strada il 70% è un alfabeto a funzionare no parere di Paolo dati sotto controllo di tutti mi chiedo io ho una figlia di 5 anni una di 22 che ormai ha già fatto la sua strada quella di 5 anni in che mondo vivrà ecco tu che sei io non sono padre ok però tu che sei padre quindi hai anche questa percezione quali sono secondo te le cose le misure in qualche modo che dovremmo mettere in atto sia individualmente ma anche magari collettivamente per per arginare un po' i futuri danni di questo perché li vedo anch'io sì sì e sono abbastanza inquietanti io ho iniziato a definirmi da pochissimo fra l'altro attivista delle interazioni umane ho visto ho visto sì perché ho visto che ci sono attivisti praticamente per tutto anche per cause chiaramente molto nobili seppur espresse in maniera delinquenziale ok perché perché anche lì cause nobili senza le parole giuste per raccontarle fanno più danno che beneficio prende gli ambientalisti su cui vabbè quelli che si buttano la scabe eccetera una causa talmente importante e nobile dove vedi però manca la cognizione io dico spesso leggetevi un libro leggetevi un libro su come funziona il cervello umano perché non è opinione di Paolo che funzioni o che non funzioni è evidente che non funziona quello che fanno però vabbè è premiante il casino è premiante il casino così hanno i 5 minuti di gloria di nuovo esattamente quanto a me ho detto divento attivista delle interazioni umane cioè vado avanti a promuovere attivamente una mia battaglia personale contro l'ignoranza dilagante e quindi l'unico modo per resistere a questa cosa è leggere leggere scrivere parlare circondarsi di persone che abbiano un minimo disenno con cui instaurare dialoghi di un certo tipo leggere leggere sforzarsi perché è una fatica oggi l'ignoranza è ripeto di nuovo premiante perché i condensati e i riassunti e dimmi il concetto in 30 secondi c'è da far fatica la ricompensa sarà che poi chi fa questo tipo di fatica adesso nel mondo che ci aspetta fra 10 anni trionferà senza troppe difficoltà perché tutta la gente che adesso vediamo fare content fra 6 mesi l'intelligenza artificiale se ripappa tutti quanti sta già succedendo sta già succedendo col problema che l'intelligenza artificiale ha uno sviluppo fattoriale e quindi quello che succede adesso fra 6 mesi è inimmaginabile quando tu riduci la tua capacità di fare content di fare copywriting a 3 cavolo di frasette in croce non esiste un programma che non possa farle meglio prima senza mettersi in ferie sai sull'uso dell'intelligenza artificiale ci sono un sacco di cose da dire io parto dal presupposto che per me il linguaggio fra le tante funzioni perché ovviamente il linguaggio ha tante funzioni però ce n'è una fondamentale che è segnalare cioè nel senso il linguaggio ti dà una variabilità sufficiente da fare così con la manina e dire io sono questa cosa qua ok cioè nel senso io utilizzo le virgole le parentesi utilizzo le mie parole il mio gergo e la mia espressività per segnalarti quello che sono questo è una divergenza se ci pensi cioè il linguaggio da questo punto di vista è divergente cioè la sperimentazione continua dell'individuo che dice riconosco come la gente parla però io cerco di segnalare quello che sono divergendo da quello che l'intelligenza artificiale è intrinsecamente convergente ok e se tu sostituisci tutti i metodi espressivi che abbiamo con la convergenza tu distruggi la capacità delle persone di segnalare l'omogeneizzazione dei contenuti da un punto di vista artistico si si è devastante ma sono bastati due anni scarsi per arrivare a questa cosa qua e il problema è che adesso sta procedendo appunto in modo fattoriale quindi tra un mese avranno fatto i progressi che hanno fatto negli ultimi cinque anni e dopo sarà una settimana fino ad arrivare a un punto in cui lo stand saranno tutti standardizzati tutti standardizzati ed è uno uno dei temi importanti perché se io e te chiediamo a un software di intelligenza artificiale e lo impostiamo in modo simile avremmo risposte simili certo quindi la nostra unicità viene persa il linguaggio tra le sue funzioni è quella della della circoscrizione cioè descrivere e circoscrivere nella misura in cui io mi descrivo ti do di me la mia versione e una delle cose belle del linguaggio è che non esiste il linguaggio inclusivo per esempio nonostante tutte le varie è tutto esclusivo il linguaggio è esclusivo per definizione se dico una cosa escludo quell'altra poi vai a farglielo capire il video su questa roba qua io i commenti di quello sì sì ma quando ne parlo c'è gente sempre che si incazza io poi alzo le mani dico se non riesci a capire in italiano quello che dico con un po' anche di se vuoi arroganza o spocchia però me ne frego non so neanche a risponderti è un dato di fatto se dici pere non dici mele cioè se dico A escludo B punto e infatti persino la tecnologia conferma questa cosa non so se hai visto tu usi Android o Apple io ho Android ecco io uso Apple per esempio e poi fino a qualche mese fa aveva un sacco di icone per le varie combinazioni possibili di famiglie quindi due donne due uomini uomo donna bambini bambini riusciva e c'erano un centinaio di icone per essere il più possibile inclusivi certo hanno dovuto cancellarle tutte perché non riuscivano ad arrivare non riuscivano ad arrivare a tutti c'era sempre quello che si lamentava perché era escluso da quella cosa lì ma è normale perché quando parli dovresti parlare all'infinito per includere tutti certo e hanno ridotto il tutto a omogeneità due immaginine sim che non vogliono dire assolutamente niente e quindi questa è un po' la direzione in cui per essere inclusivi davvero con il linguaggio non si parlerà più o si parlerà per frasi fatte che andranno bene per tutti per meme e emoji meme e emoji e il problema sarà una massa indiscriminata di gente che non saprà più chi è sì 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 c'è una bella c'è una bella c'è una bella citazione di Foucault nelle parole delle cose quando diceva che è una delle cose che mi ha colpito di più ancora anni fa all'università quando diceva ogni scrittore scrive per poter dire l'ultima parola al mondo cioè noi istintivamente il linguaggio lo usiamo per poter dire tutto ok cioè in qualche modo noi cerchiamo la parola che definisca tutto quello che siamo e la maturazione sta nell'accorgersi che il linguaggio non è questo perché il linguaggio sarà sempre insufficiente rispetto alla realtà viviamo un'immaturità totale in cui stiamo dando al linguaggio un potere magico che non ha cioè il potere di pacificare tutti c'è un conflitto nella realtà tranquilli col linguaggio verrà pacificato ecco io credo che questo sia un ulteriore aspetto di quello che andavamo discutendo cioè l'enorme potere immaginifico che diamo al linguaggio e alla comunicazione a fin dei conti noi siamo la società che si è convinta che con la comunicazione si può risolvere tutto e poi invece ci stiamo accorgendo che non è così perché la realtà meno male è un po' più vasta rispetto ai nostri codici diciamo allora sì e aggiungo ci hanno venduto male il concetto di potere immaginifico del linguaggio perché il linguaggio in realtà poi può fare può fare tante cose interessanti e risolvere un sacco di cose il problema è che lo stanno usando male per detrazione e non per aggiunta cioè che il linguaggio è ricorsivo tu potresti parlare all'infinito senza fermarti mai e quindi descrivere realmente uno scenario infinito potenzialmente il problema è che oggi stiamo vivendo quello che io lo dico sempre ai tempi di Orwell era romanzo fantastico distopico che è diventato un saggio di cronaca 84 di Orwell è un saggio di cronaca c'è la corsa a togliere le parole il problema insisto è che in questa maniera siamo tutti standardizzati perdiamo di vista che siamo davvero e soprattutto andiamo a vivere in un mondo in cui quegli attriti quei conflitti che ti permettono di crescere in realtà perché io adoro l'attrito linguistico proprio dalle parole diverse che scopriamo che siamo davvero e che possiamo ambire alla crescita nella misura in cui non posso dire certe parole tu non puoi dirne delle altre abbiamo quattro parole in croce condivise io e te diventiamo uguali e non c'è più sviluppo non c'è più evoluzione certo c'è una involuzione e con la comunicazione pure io insegno interazioni umane cioè puoi fare veramente tanto bello il problema che è una quella che viene venduta oggi è una comunicazione adatta alla viralità cioè due regolini in croce che pertengono di essere esaustive non lo sono insegnate da gente che magari ha letto il titolo di un paio di libri il titolo e forse l'indice e che viene comunque magari esortata ecco aveva ragione da questo punto di vista e oggi internet ha dato parola praticamente a tutti e io non credo che uno valga uno quello è quello è penso una delle peggiori malattie mentali del nostro tempo che chiunque può dire qualsiasi cosa no se non sei una mazza di quello di cui stai parlando non sei uno che vale uno infatti io ripeto certi contesti social proprio lì evito categoricamente preferisco avere le persone con cui parlare anche litigare discutere perché non cerco mai la linearità anzi ripeto dal conflitto che vengono fuori le cose migliori per me però ci deve essere dall'altra parte una volontà di parlare una cognizione di causa che ti permetta di crescere io non credo nel brainstorming non credo nell'uno più uno brainstorming anche questi cazzo di miti americani per cui mettiamo 20 persone in stanza e facciamo l'intelligenza collettiva se tu metti 20 rincoglioniti in una stanza non hai intelligenza collettiva hai un rincoglionimento collettivo hai 20 capri che belano cioè quindi ci hanno venduto dei concetti che sono intrinsecamente sbagliati ma di nuovo se ci pensi è il mito del quantitativo cioè nel senso fai massa critica massa critica tutti uguali tutti pari diritti allora che non venga fra impeso chiaramente il discorso siamo tutti uguali tutti pari diritti eccetera dal punto di vista del linguaggio della crescita dell'intelletto non puoi equiparare tutti non siamo tutti uguali c'è chi ha letto 5.000 libri chi ne ha letto mezzo chi non ne ha letto nessuno ma poi c'è anche chi ha un tipo di approccio alla realtà e chi ne ha un altro cioè c'è chi l'approccio più logico io non le so certo quindi c'è anche una differenziazione dialogare con te ma non ho le conoscenze che hai tu ovvio e viceversa è che noi non sopportiamo più questa cosa perché sai il renderci conto delle differenze anche quelle innate cioè nel senso io credo che ognuno di noi abbia un indole più logico matematica più emotivo artistica e via dicendo e che poi la cultura vada amplificare o mortificare questi aspetti che però ci portiamo dietro da molto più tempo rispetto a quello che possiamo concepire noi quando ci rendiamo conto di queste differenze dobbiamo ammettere la limitatezza di quello che siamo cioè in fin dei conti è quello se ci pensi e di nuovo torna il discorso del linguaggio inclusivo in un certo modo l'idea di essere illimitati è ancora il mito dell'essere illimitati non posso dire di avere delle differenze con gli altri perché io devo essere qualsiasi cosa capito e purtroppo la cultura della comunicazione da cui poi tra l'altro provengo io da cui poi ho preso bene le distanze invece ti veicola questo messaggio siamo stati cresciuti parlo della mia generazione con volere e potere non è vero quella cosa che ha fatto i danni chiunque può diventare qualsiasi cosa non è vero per nascita per genetica per la quantità di sinapsi con le quali ti trovi a dover fare i conti punto ci sono dei dati che sono inevitabili il problema è che io per esempio mi trovo di fronte a parlare con uno come te siamo conosciuti poi per questo sento parlare e dico madonna quante cose che non so quante cose che mi mancano ho la frustrazione del non riuscirò mai a saperne tanto quanto te perché dovrei dedicare gli anni che hai vissuto tu e non ce li ho certo ma questa frustrazione al tempo stesso mi gratifica perché mi fa da un lato studiare di più le cose mie dico io farò la stessa cosa certo e dall'altro mi dà anche quella molla del non ne saprò mai abbastanza la ricerca continuerà per sempre certo e morirò cercando cose c'è anche la sensazione del fatto che la cosa diventa reciproca cioè nel senso anch'io quando ascolto i tuoi video mi piace pensare esatto cioè è così capito mentre c'è gente che di fronte all'intelligenza altrui alla conoscenza altrui si spaventa scappa chiude e si rintana nelle robine perché si accorge di essere limitato solo che dire queste cose oggi per esempio è rivoluzionario dire che uno non vale uno cioè mi aspetto che mi possano rompere le scatole su questa cosa qua certo certo per me è così cioè viva l'attrito viva le differenze di opinione viva il potersi esprimere anche con parole che ti offendono ti offendi te la fai passare certo non è nella riduzione del linguaggio che otterremo risultato anzi c'è un libro bellissimo di qualche anno fa di dieci anni fa ormai di Daniele Giglioli che è un professore di filosofia se non sbaglio a Torino che è critica della vittima non so se ti è mai capitato un libro bellissimo in cui lui prendendo anche alcune tesi di filosofi storici antichi a un certo punto dice guarda che noi abbiamo creato questo rovesciamento in cui se io dico qualcosa a prescindere dalla mia intenzionalità ok se questa cosa offende un interlocutore che magari non è neanche quello diretto di quel messaggio la responsabilità dell'offesa è tua ma in realtà in questo senso noi ci rendiamo ancora più impotenti perché significa che noi chiediamo al mondo di poter riconoscere la imprevedibile reazione del mio animo quando invece dovresti tornare a dire no devo essere io a lavorare sul mio animo per far sì che questa cosa che oggi mi fa male domani mi faccia meno male esatto ma noi abbiamo rovesciato completamente e sai uno dei timori enormi che ho è l'infragilimento psicologico devastante che questo atteggiamento comporta perché tu sei di fronte a una generazione abituata in modo totalmente pedisseco a pensare se una roba mi fa male è colpa del mondo adesso non vorrei esagerare ma se tu abitui mentalmente degli adolescenti al fatto che l'attrito con il mondo è un'ingiustizia tu abitui mentalmente le persone quando vivranno le vere ingiustizie del mondo a reagire con violenza e di nuovo senza voler appesantire però anche alcuni fatti di cronaca che hanno tenuto banco negli ultimi anni nascono da lì nascono dall'infragilimento che questa idea culturale della campana di vetro del ti proteggo contro tutto e contro tutti ha creato che non puoi peraltro raggiungere perché ci sarà sempre qualcosa che ti da fare si chiama vita ovvio qualcosa si chiama vita si chiama chimica se hai la dopamina il cortisolo lo stress del confronto con gli altri ce l'hai e il problema di oggi che di nuovo senza fare il paparino perché ho 50 anni però la verità è che sono tutti sotto la campana di vetro guai e non se la smazza più nessuno ai miei tempi adesso mi sento molto vecchio a dirle questa cosa io le prendevo spesso a scuola perché balbettavo ero quello strano ero posso dire ciccione anche se ho questa parola oggi però ai tempi mi chiamavano così e le prendevo perché ero tutto strano però non ero bullizzato sai perché perché non c'era la parola bullismo certo certo oggi ti guardo strano e ti dico ma che calze hai cioè boom eh sì sì certo certo che calze hai messo oggi cosa fai body shaming mi stai criticando per il vestito non sei inclusivo io ti denuncio eh sì sì certo certo ma poi sai quella è la cosa la cosa di cui bisogna rendersi conto una volta per tutte e in realtà veramente cioè questa è una cosa risaputa da sempre perché non devi essere messo nella campana di vetro perché dentro la campana di vetro ti troverai con la persona che ti fa più male di tutte sei tu cioè nel senso alla fine gli attriti del mondo ti servono per imparare a conoscere quella parte più aliena di quello che sei che te la porti dentro cioè tu ti offendi per le calze perché in realtà tu non hai familiarizzato col motivo che ti ha portato a scegliere quelle calze adesso vorrei adesso senza un po' perché poi esistono le violenze non voglio negare il fatto che ci siano persone violente via dicendo però oggi noi abbiamo questo infragilimento che ci ha fatto dimenticare un fattore fondamentale che se ti offendi per qualcosa che hai sentito nel 98% dei casi è perché hai qualcosa dentro che dovresti con cui dovresti fare i conti questa roba non si può dire capito guarda che una coincidenza una delle cose che ho scritto tempo fa è che gli altri ci offendono quando quello che dicono in qualche modo corrisponde al nostro parere personale che abbiamo su di noi perché tu mi dici che Paolo sei un ladro io non mi non mi ci sento al limite posso arrabbiarmi posso dire ma cosa dici posso incuriosirmi dico ma perché me l'hai detto ma non mi offendo perché non rispecchia quello che penso di me ma ci sono arrivato perché mi sono scontrato voglio dire è la vita cioè ti devi scontrare prima o poi con qualcosa che ti faccia male e se non hai questo tipo di solidità emotiva che poi è anche linguistica eccetera prima o poi è un po' come il sistema immunitario io quando ero piccolo di nuovo sì devo essere invecchiato parecchio il momento dei miei tempi il momento dei miei tempi ok però nella mia scuola in tutta la scuola ero l'unico ragazzino che aveva le allergie ok non c'erano neanche i vaccini io sono di Brescia come si sentirà probabilmente e andava mia madre a Milano al centro vaccini a far arrivare non so da che paese dalla Svizzera non c'erano i vaccini oggi mia figlia è l'unica della scuola a non avere allergie e guarda caso che in modo concomitante è aumentato il disinfettate pulire non toccare per terra non giocare per terra non sporcare non toccare e il sistema immunitario come si fa con i bambini che giocano per terra mettono le mani per terra e si ciucciano le dita certo e la stessa cosa vale nei comportamenti se non diventi forte a livello immunitario da un confronto da una litigata non puoi avere un insegnante che ti sgrida oggi avrai allergia perché se l'insegnante ti dice che non hai studiato hai la famiglia che va a scuola e prende lo picchia devono mandarti l'email spiegandoti quando ti interrogeranno cosa ti chiederanno se no il tuo equilibrio psicologico diventa è compromesso è compromesso sì questa è la campana di vetro e poi di nuovo succede che a un certo punto uno a 18-20 anni scopre che l'ombra se la portava dietro cioè che nella campana di vetro era richiuso con la persona che non gli piaceva e che non ha mai avuto l'opportunità di farci i conti infatti i tassi di infelicità frustrazione depressione disagi stanno incrementando sì 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 è l'iperprotettività noi siamo siamo in una cultura iperprotettiva che non vuole mai metterci di fronte agli attriti ai limiti e quindi quando poi il mondo te li presenta tu vai in panico perché la vita è procedere per tentativi errori attriti litigate e scontri cioè non puoi farne a meno ecco in questo senso in questo senso volevo chiederti allora questo perché da tutto questo si evince che comunque quando si dice fatti una cultura non lo si dice in modo intellettualoide ma lo si dice perché ti dà strumenti che servono e io credo visto che ne parlavo anche prima insomma a pranzo che che tu in questo periodo della tua vita tu stia in qualche modo ringraziando di esserti fatto una cultura perché mi sembra anche seguendo quello che stai vivendo che tu stia utilizzando non solo il linguaggio ma anche le tue conoscenze per gestire questo attrito che è uno degli attriti più devastanti questo è l'attrito più forte che io mi sono trovato ad affrontare nei miei 50 anni questa diagnosi di tumore che mi hanno dato certo al terzo stadio fra l'altro quindi una cosa abbastanza interessante la chemioterapia prima che mi ha messo veramente a dura prova ha messo un po' in crisi tutte le mie certezze e la radioterapia le operazioni gli interventi tutto quello che dovrò ancora fare io dico sempre ringrazio il cielo che poi ringrazio me stesso perché i libri li ho letti io però diciamo ringrazio il cielo di avere un cervello che funziona e di avere le competenze la conoscenza per poter capire quello che sta capitando avere coscienza di me mi trovo dai giorni a chiedermi ok in questo momento come sto che chimica ho cosa posso fare per gestirlo in maniera diversa tanto è vero che la maggioranza della gente che mi incontra quando gli racconto che cos'ho in questo momento e cosa sto facendo ora mattina ero in ospedale a fare radio e chemioterapia stamattina no l'altro giorno mi dicono eh però non si direbbe e però come la prendi bene però ti vedo in giro sei pimpante sempre persino meglio di prima e la realtà è che lo dico sempre per battuta mi sono preparato tutta la vita per questo eh sì sì quando mi ha detto il medico guardi Borzacchiello che lei ha sto cancro molto grave non sappiamo come finirà e altro ho avuto un momento chiaramente di sbandamento ma l'ho ridotto a tipo mezz'ora certo poi mi son detto ok se se c'è uno che può farcela bene sei te perché con tutte le cose che sai e qui la cultura la medicina cinese che ho studiato a 25 anni guarda caso mi è servita perché mi è permesso di capire quali i miei momenti di mancanza hanno contribuito probabilmente a creare anche questo tipo di disagio e però vai a sapere a 20 anni che studieranno medicina cinese quando nel re 50 ti servirà gli studi che ho fatto sul viaggio dell'eroe quando studiavo comunicazione madonna quanto mi sono serviti adesso quando in ospedale la sera sono disperato e penso questa è la caduta dell'eroe però se sto cadendo poi devo sviluppare nuove risorse e quindi leggerò un altro libro e quindi sopravviverò il linguaggio che ho studiato per tutta la vita sapere come correggere quello che mi dicono i medici per esempio è stato fondamentale il medico parla io traduco mi dicono Paolo resisti io dico per carità cosa devo resistere che ho già una resistenza fisica rispetto a certi pattern emotivi se penso di dover resistere muoio se penso di dover tenere duro per carità ho già un tumore che tiene duro via Paolo sei un guerriero no sono uno sciamano in viaggio cioè se non sapessi queste cose aderirei al linguaggio usuale ne verresti sopraffatto e ne verresti sopraffatto e mi convinceresti di cose che non vanno bene e dare credito a quello che dice il medico invece dare credito nel senso non chiaramente tecnico perché la clinica la clinica è sacra ok però anche lì la clinica c'è modo e modo per raccontarlo e quindi in effetti la mia cultura che è molto trasversale fra l'altro perché spazi da una cosa all'altra oggi è la chiave di volta che mi permette di essere qui oggi e parlare con un tumore addosso la radioterapia fatta tre ore fa e star bene essere contento e dare un messaggio che non soltanto la conoscenza rende liberi che è il mio motto personale aziendale ma la conoscenza rende anche sani a volte ti salva il culo certo certo non è da poco questa roba voglio ringraziarti noi dovevamo fare ancora a luglio questa cosa qua però poi diciamo così lì il periodo era molto molto più delicato era il mio strong veramente contento di averti qua perché comunque avevo proprio voglia di chiacchierare con te avendo letto e sentito un bel po' di cose e tutto quello che hai detto risuona molto in me perché ovviamente il tema del memento mori con la filosofia è abbastanza abbastanza presente mi hai fatto venire in mente una di quelle cose che io quando le ho lette e le ho lette in periodi non sospetti poi mi ha aiutato veramente a gestire tante cose che sono avvenute perché poi il memento mori non è soltanto affrontare la tua mortalità ma anche quella delle persone che ami e c'è quel bellissimo passo di epiteto che l'ho usato proprio per il seminario di questo weekend fatto con l'academy in cui lui dice a un certo punto usa questa metafora dice ricordati che tu stai viaggiando su una nave e la nave a un certo punto si ferma a un porto e tu puoi scendere puoi scendere e andare sulla spiaggia e sulla spiaggia troverai una piantina una conchiglietta ma ricordati di tenere sempre d'occhio la nave perché a un certo punto il capitano ti richiamerà alla nave e tu sulla spiaggia troverai un sacco di cose belle e quelle cose belle saranno e lì esce dalla metafora e saranno una moglie un figlio degli affetti delle passioni ma chi si dimentica che il capitano a un certo punto quando tu meno te lo aspetti ti richiamerà verrà trascinato via dalla spiaggia contro ogni sua volontà e strepiterà e sarà assolutamente disperato chi invece riesce a tenere un occhio alla nave quando verrà chiamato si sarà goduto la spiaggia e tornerà senza la paura di aver lasciato sulla spiaggia nulla di valore e questa cosa qua è essenziale perché a quell'atteggiamento ci arrivi cioè non ce l'abbiamo distinto la cosa veramente da comprendere è che Seneca lo chiamava l'imparare a morire ok tu lo fai ogni giorno lo fai quando sei vivo lo fai quando sei in salute quando sei in salute impari ad ammalarti in futuro quando stai bene impari a star male in futuro quando quando la tua relazione va bene impari a gestirne le conflittualità se tu invece aspetti se stai beota sereno inclusivo fino a che le cose non vanno male lì andrai fuori di testa completamente eh sì perché non sei pronto non sei pronto e la cosa poi è il gatto che si morde la coda perché quando poi ti capitano quelle cose ti si altera la percezione cambia la chimica che hai in corpo e se sei pronto è come quando studiarti marziali o combattimento e il corpo impara la tecnica è talmente bene che la fa distinto quando hai un momento di pericolo non devi pensarci perché se quando sei in ospedale quel medico che ti dice mi è successo proprio ai primi di settembre mi hanno dovuto operare d'urgenza nella categoria di sfiga che mi sono capitati in questi mesi e gli chiedo ma sopravvivo e lui mi dice speriamo ok così mi ha risposto e lì non è più cognizione non è che puoi stargli tanto a pensarci devi avere dentro di te un allenamento tale per cui sei pronto a gestirla lo fai distinto perché altrimenti la chimica ti impedisce di reagire e di cogitare in questo caso certo quindi devi diventare quel tipo di cultura che poi ti serve per è un allenamento che fai quando sei sano quando sei sano io ho avuto per anni l'anello portavo l'anello all'indice con scritto memento mori ma non avevo ben capito cosa volesse dire adesso ho l'opportunità di stare abbastanza bene poi magari camperò cent'anni me lo auguro però è chiaro in mente che la mia vita è comunque stata segnata e che ha preso una direzione magari mi porta a vivere ripeto cento anni felice eccetera ma la verità è che magari no certo e quindi preso coscienza sereno di questo ho cominciato a questa cosa della spiaggia mi mancava ti manderò l'eccitazione perché è bellissima sto imparando a morire poi magari mi servirà ripeto tra cinquant'anni non so se in tv ci si può toccare ok non sono scheramantico però toccherei lo stesso però sto ragionando in un modo molto diverso da prima sì sì e di nuovo ringrazio gli studi la cultura le parole che mi hanno permesso di e mi sono permettendo di ridisegnarmi la narrazione in modo diverso se mi dovessi basare sulla narrazione che ho dall'esterno anche fatta da persone in buona fede anche fatta da persone competenti per il loro pezzo ma mancanti di capacità di comunicazione anche dalle persone che ti amano che vogliono consolarti e che magari sbagliano le parole ti mettono in testa idee che poi oh le parole funzionano certo certo tu appena ne senti una cominci a pensarci certo certo forca miseria e quindi sì grazie a tutte queste cose che ho studiato insomma sono cioè io io ho adottato io sono stato molto vicino alla morte che ero giovane ok quindi ero al liceo che sono ho avuto un'esperienza molto 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 vicino perché ho fatto seticemia e quindi ero e poi ho vissuto la morte anche dal lato di persone che amavo come a tutti capita e io ho adottato l'ho adottato inizialmente in modo molto inconsapevole un po' come te il memento mori ok però io mi sono cominciato a dire tutto intorno a te muore continuamente tutto muore muoiono in questo momento stanno morendo tantissime cose intorno a noi ok dalle cellule alle idee a convinzioni oltre a persone se tu guardi nell'arco di 10 km quadrati in questo momento qualcuno sta morendo e noi siamo circondati della morte la morte non è un evento della vita è una struttura essenziale della nostra realtà ok ma come diceva Joseph Campbell che è autore insomma quindi condividiamo questo amore che è un figo che è un figo pazzesco che è un figo pazzesco lui dice noi siamo circondati dalla morte tutto quanto muore sempre e questo può da un lato farti rattrappire dire oh mio dio non voglio vedere questa cosa voglio chiudermi in una fantasia in una campana di vetro in un linguaggio inclusivo in quelle cose confortevoli che mi permettono di dire tutto in pace tutto eterno tutto illimitato oppure puoi dire cosa sto generando cioè sono parte di una forza che accettando il fatto che tutto muore continuamente senza che io possa farci veramente nulla genera e fa nascere e rinascere ciò che serve per mandare avanti questo ciclo esatto e per fare questo però devi trovare quella forza interiore ok perché è da dentro che arriva quella generazione sì sì che a me ha salvato mi sta salvando ti sta salvando esatto ti trovi a 50 anni con una cosa del genere ti viene da chiederti ma che cavolo ho fatto di male per meritarmi questo che è la domanda peggiore del pianeta ok e la verità è che devi accettare il fatto che molto spesso un motivo per cui certe cose capitano non c'è o meglio sono 10.000 messi insieme ma qual è il più importante e il meno importante no chissà perché mi è venuto è la genetica la familiarità l'inquinamento il mangiare lo stress cioè va a saperlo non si può sapere non far farlo in Brasile esattamente allora in questi casi una delle cose che io mi sono detto è che un motivo non ce l'ho uno scopo lo posso trovare quindi per me lo scopo nella vita è sempre stato imparare per insegnare sto vivendo questa cosa come un corso di formazione sì sì è proprio così doloroso costoso faticoso perché a volte è veramente faticoso però ho uno scopo fortissimo che da quando ho chiarito nel mio cervello mi fa alzare la mattina e fare quello che ho fatto finora dalla divulgazione alle chiacchierate che auspico possono lasciare un retaggio possono ispirare qualcuno a dire caspita quasi quasi mi leggo un libro in più lo scopo mio è quello di imparare bene da questa cosa che sto vivendo e quindi poi insegnare alle persone quali provano utilizzare e sta funzionando peraltro perché sto ricevendo tante richieste persino da scuola di medicina vieni a farci la lezione su come presentare perché almeno dico qualsiasi cosa che mi capiti si potrà dire beh a qualcosa comunque servito certamente magari non a lui perché poi a volte capita cioè sono molto pragmatico purtroppo su questo però qualcun altro magari servirà e quindi se non c'è un motivo possiamo trovarci comunque lo scopo prima dicevi hai usato un'espressione che anch'io quando mi capita di dire mi fermo un secondo e dico aspetta grazie al cielo ringrazio il cielo ok però è un'espressione interessante quella perché se tu la spogli dal connotato spirituale deistico e via dicendo in realtà io ringrazio il cielo comunque quello che è accaduto sai di cosa del fatto che persone che prima di me hanno affrontato i loro limiti la loro mortalità i loro problemi con strumenti consapevoli hanno consegnato mi hanno generato nonostante anche loro forse ero circondati dalla morte hanno generato per me questi strumenti di cui devo essere grato che mi arrivano senza che io li abbia né meritati né cercati mi arrivano e io devo fare lo stesso capito cioè devo generare degli strumenti accettando il fatto che come Pitteto come Joseph Campbell a un certo punto io non ci sarò più ma avrò lasciato degli strumenti affinché qualcuno possa di nuovo generare valore e contrastare questo continuo incessante lavorio della morte esatto alla fine siamo questa è l'avventura in cui siamo coinvolti che è il viaggio esatto di Campbell grazie al quale io posso elaborare la mia realtà in maniera diversa sono avessi quel tipo di conoscenza la notte fatidica in ospedale in cui sono stato ho avuto il mio cedimento emotivo e altro sarebbe finita lì fino a se stessa da quel momento lì incorniciandolo qui poi entriamo nel campo dei frame che sono meravigliosi grazie all'Acov che mi ha trasmerito quel tipo di piacere che il cui lascito mi ha salvato la vita da certi punti di vista ecco mi piacerebbe che la stessa cosa che faccio poi con i libri con i social con cogitate come questa un domani qualcuno dicesse oh grazie alle cose che ho imparato da Paolo o da Rick mamma mia vivo un po' meglio esatto e allora lì hai uno scopo e ti fa vivere meglio ti fa vivere meglio la morte eh sì sì se qualcuno vivrà la stessa gratitudine anche un centesimo della gratitudine che provo io per questi autori qua questi qua dietro di me che hanno dato delle cose pesanti eh sì 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 però questo è un buono scopo questo è content per esempio no questo non è content non è content non è content no 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 con Shakespeare no non è content non è content contentone contentone esatto ma noi come ci definiamo quindi no siamo content creator no no io sono io dico io ormai basta mi sono rotto i coglioni io sono filosofo e uso il web filosofo punto stop io faccio filosofia sui libri sul web basta non faccio content content lo fa ciccio gamer content lo fa chi va al parco a fargli scherzi i vecchi io no cioè nel senso io non voglio che il mio che il mio stavo dicendo il mio contenuto no non voglio che il mio lavoro venga affiancato a quello come si fa a rovinare una parola orca miseria è pazzesco eh cioè pensa cosa potrebbero fare la parola forma mamma mia a volte veramente riscrivi la semantica sì 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 prima content per me era una cosa positiva positiva figa ogni volta che sento la parola content creator mi vengono i peli dritti nella testa ah sì sì mi è piaciuto nella testa però è è incredibile il modo in cui stanno venendo riscritte le parole sì sì sono d'accordo e sai cosa che noi diamo cioè in questa epoca diamo molto più potere alle parole rispetto al passato mi viene in mente ti ricordi quando ci fu quello scandalo perché il se non mi sbaglio CEO ossia di Volkswagen ha una riunione con gli con i suoi dipendenti disse Arbeitmarktfrei ok che in realtà è una formula che non è stata inventata dai nazisti certo l'hanno resa un po' celebre loro molto più antica è una frase che si trova in testi religiosi sì sì e apreti cielo CEO nazista e via dicendo in realtà io feci un'intervista quella volta per Open in cui dissi ragazzi cioè io capisco che questa è una formula che si porti ad un connotato ma in realtà noi abbiamo il potere di ricollocare i simboli le parole quello sì che è un potere che abbiamo quello è il potere metterlo nel contesto esatto capito cioè far capire che la svastica è un simbolo religioso che ovviamente non sto dicendo mettiamoci una svastica però capire che non ha un potere magico assoluto capito è attribuito e la cosa bella l'implicazione di questo è che se tu glielo attribuisci glielo puoi anche togliere certo questa è per me la libertà di parola lo dico sempre non è il posso dire quello che voglio con il beneficio dell'impunità per cui posso offenderti insultarti attaccarti dietro questo scudo fittizio del sono libero di parlare non è quello non è quello la libertà di parola è capire che con le parole tu le puoi le puoi usare le puoi manipolare la nominazione che è l'atto che ci rende a immagine e somiglianza di Dio è che io con le parole posso farci quello che voglio e se attribuisco a una certa frase un certo tipo di potere perché glielo ho attribuito io glielo posso anche togliere però per fare questa roba qua devi essere intelligente devi essere intelligente devi riuscire a contestualizzare e oggi questo piattimento della comunicazione a cui così torniamo al discorso di prima che è un piattimento osceno tu in due secondi su una storia devi risolvere i problemi del mondo ti toglie il contesto perché vedi le cose fisicamente dentro un frame che frame come concetto è metaforico ma in questo caso letterale il frame è cioè 3 centimetri per 5 tu in quel quadratino in quel rettangolino lì pensi di vedere il mondo e non vedi quello che c'è appena appena di lato appena sopra appena sotto e quindi senza contesto la singola parola perché poi i social fanno anche questo ti tolgono la frase le cose che noi abbiamo detto in questa cogitata tu estrai 4-5 pezzetti siamo finiti siamo finiti le togli dal contesto estrapoli un pezzo ci possono rovinare sì sì certo certo punto e una delle capacità che stiamo perdendo legata di nuovo a poco linguaggio poca cultura e così via è proprio la capacità di guardare le cose all'interno del contesto allargare il frame sì sì allargare il frame e purtroppo lo schermo del telefono è diventato non più metafora e basta ma proprio fisicamente il confine con il quale noi guardiamo il mondo è la nostra campana di vetro se tu guardi il mondo in tre centimetri quadrati ragazzi miei cioè cosa vedi vedi zoom in sulla faccia che parla e non vedi cosa c'è dietro sì 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 assolutamente siamo ingannati da questa cosa e abbiamo cominciato a credere che il mondo sia quello che vediamo nel telefono certo ma non è così la gente che ci sta guardando non sa dietro cosa succede adesso non sa cosa c'è di lato non sa io palpeggio Fede e anche Valerio non sa che c'è gente nuda che parla con dei cappelli non le vede quindi non ci sono vedono questo e basta e il problema è che poi c'è qualcuno che guarda anche un po' oltre e si ricorda che è un telefono e si ricorda che è una storia di Instagram altri che si dimenticano di questa cosa e si confonde la realtà virtuale con la realtà per te assolutamente hai ragione in questo c'è una grande responsabilità di coloro che lavorano su internet perché perché io mi rendo conto io una cosa che ripeto spessissimo nei miei video in live dicendo è ricordatevi di non confondere quello che vedete con quello che c'è ok perché quello che vedete è una costruzione per quanto poi sia autentica spontanea per una costruzione quello che c'è è molto di più e infatti dico sempre ricordatevi che io non sono vostro amico ma non lo dico per essere stronzo lo dico perché non voglio che si confonda una relazione tramite schermo con una relazione reale ok purtroppo mi rendo conto che questa è una cosa che pochissimi specificano perché moltissimi gli streamer in questo hanno fatto scuola su twitch e via dicendo tiktok giocano su questa parasocialità non soltanto giocano sul fatto che ehi tu sei mio amico ti voglio bene abbiamo un legame emotivo è tutto fantasioso cosa che convince anche molte persone giovani che ah vedi l'amico ce l'ho è un problema ma in qualche modo giocano sul fatto che le persone che guardano non riescono più a distinguere fra quello che vedo e quello che esiste perché è comodo è comodo perché con quel legame emotivo così crei questa vicinanza che poi è fasulla e danneggiata io faccio l'esempio su questo che a volte io non lo specifico in maniera così chiara magari ma do delle risposte a volte abbastanza taglienti eh t'ho visto ma sì perché se ti scrive la domanda la domenica che dice non mi rispondi mai e io dico ma ti rendi conto che non siamo a un bar uno di fronte all'altro e che magari ho ricevuto 300.000 domande e ho una vita oltre lo schermo cioè c'è questo proprio annullamento del reale per cui confondi il fatto che ti sto parlando su Instagram con il fatto che io sia lì soltanto con te pensi di essere l'unico interlocutore nella stanza e ti dimentichi che nella vita cioè io il telefono lo tengo spento certo certo non ti stanno confondendo questa cosa io guarda alcune risposte che hai dato io mi ricordo una volta io non mi ricordo la risposta che hai dato a uno a una che aveva fatto una domanda che in realtà mi pareva ancora una domanda era mal posto però ti ha fatto un'ammazzata ho pensato questo passerà tutta la giornata sotto la doccia a mangiare biscotti piangendo ma sì ma lo faccio poi qualcuno lo prende per il verso giusto e dice grazie perché mi hai fatto capire qualcun altro si offende ma di nuovo torniamo al discorso di prima se non capisci che la mia risposta non è cattiva in quanto tale fine a se stessa o perché voglio fare il fenomeno perché so parlare bene quindi ti stronco ma è comunque costruttiva io sono uno che domenica scorsa uno mi chiede c'è un motivo per cui Paolo ti resti sempre di nero sì cioè ti rispondo a tono e non è perché voglio farlo stronzo è perché devi capire che se vuoi dalla vita qualcosa che ti interessa lo devi chiedere bene certo mi chiedi c'è un motivo per cui fai sta roba sì è quello che volevi sapere no e allora chiedimelo bene cazzo e io ti risponderò è educativo poi c'è anche chi se la piglia perché pretende che tu sia sempre gentile e cortese e carino ma pretende di che c'è questa confusione bisogna sistemare un po' le faccette ti faccio una proposta bisogna fare una proposta di legge per l'istruzione e fare una nuova materia a scuola domandologia domandologia cioè torniamo a chiederci come si pongono bene le domande perché la gente fa domande di merda sì terribili e il problema è che di nuovo l'intelligenza linguistica dalla qualità delle domande che ti poni deriva dalla qualità della tua esistenza assolutamente assolutamente io per esempio che pure insegno queste cose ho scritto anche il libro che di bene ho sbagliato clamorosamente perché quando ho compiuto 49 anni ho chiesto male ho detto vorrei un compleanno memorabile solo che non ho specificato tipo non so a New York a far vacanza e a simultaneo mi hanno detto guardi lei c'ha il cancro quindi memorabilissimo memorabile però ho detto dovevo chiederla un po' meglio per il 51 ho fatto delle richieste straordinarie ti è successa la stessa cosa che è successa a Walter White in Breaking Bad non è che devi dirci qualcosa stai portando avanti qualche traffico strano diciamo che ho due figlie non preferisco venderla no anzi a proposito di figlie Breaking Bad che lui si preoccupa del mantenimento dei figli io anche per cui se per caso muoio durante la diretta filmatemi taggatemi così la gente diventa così diventa virale viralissimo viralissimo i figli sono a posto con i diritti d'autore tutti i proventi saranno all'interno del cogito studio mi dispiace dirtelo tutti i proventi rientreranno allora niente allora sto bene torno a casa va bene allora sto bene torno a casa peccato ho tentato la sorte dai ascolta in chiusura che poi passiamo un po' alle domande delle persone che stiano seguendo agli ospiti che sono qui per la prima volta c'è la domanda diritto inevitabile non puoi citare i tuoi ovviamente tre libri che per te sono stati veramente fondamentali nella tua maturazione che possono essere romanzi possono essere saggi qualsiasi cosa allora il primo in assoluto che ti cito è Metafora vita quotidiana di George Lakoff che è il libro che mi ha cambiato la vita proprio letteralmente perché perché ho capito che il linguaggio è incarnato e quando capisci che il linguaggio è incarnato che il corpo ti parla con degli schemi particolari e che con le metafore puoi cambiare la percezione lì poi io da lì sono partito e mi sono sbizzarrito intrippato tantissimo con questa roba quindi è un libro fantastico poi libri che mi hanno cambiato tanto la vita sicuramente ci piace il mio primo manuale di medicina tradizionale cinese l'autore non me lo ricordo ma meno male sono tutti quanti simili perché ho cominciato ad avere dei perché che il mondo occidentale non mi dava perché io volevo sapere perché a parità di materasso a uno gli viene mal di schiena a quell'altro no perché i peperoni uno non li digerisce a quell'altro no la medicina occidentale spesso si ferma su questo la cultura occidentale spesso si ferma su questo ti dico no perché è così perché ci sei nato io che sono un curioso ah ci sei nato così non volevo starci e lì ho cominciato a capire l'impatto delle emozioni per esempio sul nostro modo di essere quindi mi ha cambiato la vita moltissimo e ti faccio uno per genere dai e uno che mi ha cambiato la vita è stato It Romanticist thinking perché quando l'ho letto nel mio cervello c'è stato il io voglio fare lo scrittore ah bello bello esatto poi ci sono arrivato per via traverso dopo aver fatto la consulenza il formatore eccetera un libro magico però e infatti ho scritto anche dei racconti horror rispirato da Stephen King che sono nel cassetto e che lasceremo lasceremo nel cassetto lasceremo lì ok però magari quando muoio sai che recuperano sempre tutto recuperano tutto il posto nella vita e quindi It è il romanzo che mi ha detto che mi ha fatto capire dico ma come si fa scrivere una cosa così e lì ero ragazzino ero in terza media probabilmente proprio giovinissimo ho detto ho cominciato a chiedere alla mia madre di pressarmi la sua macchina da scrivere era insegnante e a scrivere qualche racconto e ho scoperto l'amore per la lettura e la scrittura grazie a quel romanzo quindi Lakoff Medicina Cinese e It fantastico una trilogia una trilogia fantastica una miscellanea veramente particolare ma non mi aspettavo niente di diverso Stephen King con la medicina cinese c'entra c'entra tutto ah guarda Paolo io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata a fiume veramente fantastica mi sono divertito un sacco è stata veramente molto bella spero che sia la prima di una lunga serie perché insomma ci sta abbiamo ancora un sacco di sentieri e poi lo ha metti che scrivi qualche altro libro magari mi inviti un libro così insomma mi sembra che tu sei poco propenso a scrivere scrivo poco allora chi è in live mi raccomando adesso non uscite perché andremo a rispondere a qualche domanda ricordo invece a chi ha visto questa chiacchierata indifferita che abbonandovi al canale potete non solo vedere le live durante le dirette recuperare live precedenti con tutti gli ospiti eccetera eccetera anche i Q&A finali perché adesso passeremo un po' di tempo a fare qualche altra domanda a sentire la vostra e quindi insomma mi raccomando abbonatevi se volete sostenere il nostro lavoro e guardate in descrizione tutti i link metto anche i link dei libri di Paolo quelli perlomeno che ho letto perché sugli altri mica mi fido cioè nel senso li leggerò e poi vi metto i link mai fidarsi e niente ringrazio di nuovo Paolo per questa chiacchierata è stato un grande piacere grazie veramente porto a casa un sacco di roba interessante mi fa molto piacere che non pagherò no assolutamente no questo è la mia è la mia restituzione cioè la nostra restituzione però adesso io torno a casa ricco stasera e con un sacco di stimoli quando si dice la cultura la conoscenza abbonarsi a un canale cioè cavolo li spendi per le stronzate e non io insisto su sta roba perché è tutto investimento che torna indietro al di là di idee di noi cioè è che la gente a volte si confonde non hai problemi a spendere 500 euro per una stronzata e non li spendi in conoscenza e cultura ti salva la vita questa roba ti salva la vita è che ti salva la vita indifferita e noi indifferita difficilmente sopportiamo di pensare le cose non riusciamo a concepire il premio dopo un po' bisogna tornare a farlo però va bene e speriamo che con questa cogitata qualche stimolo lo abbiate ricevuto chiaro e adesso figurati cosa faremo durante la parte delle domande vi mostreremo ovviamente io che palpeggio Fede e Valerio detto questo buona continuazione grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti